L'8 dicembre ci saranno le elezioni primarie per la scelta del segretario nazionale del Partito Democratico e ho scelto insieme a molti altri di sostenere la candidatura di Gianni Cuperlo perché penso le sue ragioni, la sua proposta politica, il suo impianto politico e culturale siano quelli che in maniera migliore rispondono ai bisogni, alle esigenze che oggi il nostro paese ha. Da questa crisi ci sono due maniere per uscirne fuori, la prima è quella di garantire a chi ha guadagnato già troppo da questa crisi ancora più guadagni e l'altra, la nostra maniera, la maniera della sinistra, è quella di restituire dignità a chi la dignità in questa lunga stagione di crisi l'ha persa. Noi dobbiamo dire parole chiare sul lavoro, sui diritti, sulla laicità, sull'uguaglianza e in questo senso la candidatura di Gianni Cuperlo, le sue idee, le sue proposte sono quelle che per me se dicono meglio alla stagione politica che stiamo vivendo e che onorano al meglio le storie, le tante storie da cui nel Partito Democratico ciascuno di noi proviene.